Anticipata la zona gialla, le marche cambiano colore dal lunedì Trovato con un etto di cocaina, arrestato spacciatore di spicco a Pesaro Consiglio comunale, il bilancio dell'attività 2021 Liceo Mengaroni in arrivo, borse di studio per i migliori studenti di moda Buona serata, eccoci pronti per questa nuova edizione del nostro telegiornale Come sempre il nostro telegiornale dal lunedì al venerdì lo trovate alle 19.40 e alle 20.40 Apriamo questa edizione occupandoci dell'ufficialità del passaggio della regione Marche Da zona bianca a zona gialla, non più dal 27 dicembre come il presidente Acquaroli ipotizzava ieri Ma già da lunedì 20 dicembre come imposto oggi dall'ordinanza del ministro della salute Speranza Nel nostro primo servizio quindi vediamo innanzitutto le motivazioni di questo declassamento Ma anche cosa cambia dal passaggio da zona bianca a zona gialla Fino a ieri ci si aspettava un capodanno in zona gialla Come conseguenza del peggioramento dell'attuale curva pandemica Come paventato dallo stesso presidente della regione Francesco Acquaroli Governatore che invece questa mattina ha ricevuto la telefonata del ministro della salute Roberto Speranza Che ha confermato e ufficializzato i rumors emersi nella tarda serata di ieri Le Marche passeranno da zona bianca a zona gialla già da lunedì 20 dicembre E' quanto ratificato da una ordinanza ministeriale che declassa la regione Assieme a Veneto, Liguria e provincia autonoma di Trento Natale in giallo e cambio di colore in anticipo motivato dallo sforamento di tutti i parametri Su tutti quello dell'occupazione dei posti letto in area medica che ora supera la soglia del 15% Un dato che come ricordato anche da Acquaroli attraverso Facebook Negli ultimi due giorni ha registrato un incremento superiore a quello di una settimana intera Da lunedì quindi nelle Marche scatterà la mascherina obbligatoria anche all'aperto Non ci saranno però altre differenze sostanziali fra zona bianca e zona gialla Differenze che sono decadute da quando dal 6 dicembre Gran parte delle distinzioni sono diventate riconducibili fra l'avere il Super Green Pass rispetto al Green Pass base Mascherina a parte, se siamo uniti di certificazione verde rafforzata Non ci sono infatti differenze rispetto alla zona bianca per l'accesso a alberghi, trasporti pubblici o ferroviarie Così come non ci sono limiti a spostamenti di regione I negozi restano aperti, idem bar e ristoranti senza limiti orari Allo stesso modo non cambia la fruizione di eventi sportivi, teatri, cinema o eventi culturali Un passaggio da zona bianca a zona gialla che dunque non sconvolgerà certe abitudini o libertà Ma che è una preoccupante cartina tornasole della facilità di contagio in un inverno che ha appena cominciato E allora vediamo quali sono i numeri della nostra regione marca I numeri riguardanti i contagi da Covid-19 dopo il picco di contagi di questa quarta ondata Raggiunto ieri con 753 casi Oggi il dato del servizio sanitario regionale parla di altri 682 casi Quasi la metà dei quali in provincia di Ancona, cioè 320 Mentre quella di Pesaro si ferma a una più contenuta cifra di 80 nuovi casi L'incidenza di contagio, altro parametro da zona gialla, è salita a 267 casi settimanali ogni 100.000 abitanti Crescono ancora di 5 unità i ricoveri, ora sono 191 di cui 36 in terapia intensiva Oggi si registrano altri 5 decessi nella regione Marche 5 decessi dietro a compresa tra gli 83 e 94 anni Ovvero tre donne di Pesaro, Ancona e Senigallia e due uomini di Senigallia e Arcevia Ed ora passiamo alla cronaca Una notizia riguardante un albanese residente in questa provincia Che è stato arrestato per spaccio di cocaina dalla polizia pesarese Da tempo gli uomini della questura l'avevano individuato come uno dei riferimenti di spicco Fra i consumatori di droga del territorio Le manette sono scattate lo scorso 14 dicembre Quando l'uomo incensurato e con un lavoro stabile È stato pizzicato durante lo spaccio di più di 6 grammi di cocaina A favore di un residente della zona Già noto dalle forze dell'ordine come tossicodipendente E in seguito alle perquisizioni è stato trovato in possesso di altri 120 grammi di cocaina Del materiale necessario al confezionamento e di 10 mila euro in contante Ritenuto provento dello spaccio L'albanese è stato arrestato e recluso al carcere di Villa Fastigi Nel pomeriggio di ieri il GIP del Tribunale di Urbino ha applicato la misura degli arresti domiciliari Giornata di congedo dal 2021 per il Consiglio Comunale di Pesaro Che oggi è tracciato un bilancio dell'anno che si sta concludendo per proiettare lo sguardo ai progetti del 2022 Il 2021 è stato un anno difficile per tutti Difficile come il 2020 se non più del 2020 In cui anche il Consiglio Comunale ha dovuto rivedere tante dei suoi processi Le iniziative, le modalità con cui ci si confronta, le modalità con cui si lavora E non è stato un anno malvagio perché abbiamo approfittato di questo tempo proprio per rimodulare tutto Abbiamo cercato di fare tutti i consigli comunali in presenza Da ottobre 2020 si tengono comunque in presenza purtroppo non in quest'Aula Ma abbiamo approfittato di questa assenza per fare un restyling tecnologico dell'Aula Che consentirà già dal 2022 di poter usufruire dell'Aula in maniera totalmente accessibile Ci saranno le sottotitolazioni, ci sarà la possibilità per gli utenti, per i cittadini di seguire in maniera indicizzata Cioè sapere in quale momento è intervenuto il consigliere e qual è il lavoro del consigliere che ha svolto in quel momento Un Consiglio Comunale che si è caratterizzato tantissimo anche per l'attività politica Uno delle attività politiche più vincenti a mio parere è stato l'ordine del giorno del San Benedetto Di cui sono stato promotore Come sapete l'ex manicomio, il San Benedetto è stato oggetto di un infinanziamento molto importante Da parte dello Stato che l'amministrazione ha presentato E grazie a un'unità di intenti forte anche di questo ordine del giorno Un risultato importante è stato portato a casa con oltre 45 milioni di euro Di cui una bella parte ha disposizione per la riqualificazione del San Benedetto Il progetto Laureate in Comune abbiamo, come ricorderete tutti, tanti ragazzi e tante ragazze che si dovevano laureare Qualcuno si laureava da casa, qualcuno in cucina, qualcuno in salotto Abbiamo messo a disposizione la sala del consiglio per potersi laureare È stato eletto il garante per le persone con disabilità, Marus Capalazzi Ma veniamo quindi al 2022 Il 2022 in cui siamo riusciti a progettare tante iniziative È una presidenza che si vuole contraddistinguere nell'attività politica il più diffusa possibile E nell'attività di partecipazione anche questa il più diffusa possibile Proprio per questo motivo ho chiesto ad Aspes di aiutarmi ad organizzare Un ciclo di conferenze formative e informative Che consentano a coloro che vogliono avvicinarsi o vorranno avvicinarsi alla politica E magari candidarsi nelle prossime tornate amministrative Di poter partecipare alla vita politica e quindi di avere i contenuti Concludo con una cosa molto interessante Anche qui un lavoro, una progettualità del 2020 Che abbiamo voluto portare avanti Abbiamo dovuto portare avanti solo nel 2022 Hanno aderito 360 bambini ovvero più di 25 classi delle elementari e delle medie Al comune va a scuola Un progetto di elaborazione grafica Ma non solo Andremo nelle aule, andrò nelle aule delle classi delle elementari e delle medie Che hanno aderito A spiegare cos'è il consiglio comunale e come funziona Dal consiglio comunale di Pesaro passiamo al consiglio provinciale Perché domani si eleggono i consiglieri che resteranno in carica per due anni Mentre come ben sapete il presidente Giuseppe Paolini Resterà alla presidenza almeno fino a ottobre 12 consiglieri da eleggere Nella lista alla Casa dei Comuni Figurano sindaci e amministratori del territorio Come Mauro Dini, Cinzia Ferri, Maurizio Gambini Donatella Paganelli, Alessandro Piccini ad esempio di Cantiano Elia Rossi, Fernanda Sacchi, Massimo Seri, Fano, Palmiro Ucchielli Mirko Zenobi, Marila Girolomoni e Chiara Panicali Nell'altra lista, la lista provincia in comune I candidati sono Roberto Biagiotti, Arianna Bottin, Cristina Cannas, Domenico Carbone Ombretta Ghironzi, Mariana Magrini, Giacomo Martinelli, Enrico Rossi, Carmelo Scopelliti e Giacomo Tocquacceli Come previsto dalla legge di riforma delle province del 2014 A votare il 18 dicembre non saranno i cittadini Ma tutti i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia Che potranno esprimere una sola preferenza Dopo una mozione bocciata in estate La raccolta firme che ne è conseguita Il gruppo pesarese di Fratelli d'Italia Riporta all'attenzione del comune La proposta di intitolazione di un luogo cittadino Alla memoria della martire istriana Norma Cossetto La mozione bocciata in consiglio comunale la scorsa estate Non ha allentato l'impegno di Fratelli d'Italia Per intitolare una via, una piazza o un luogo simbolo di Pesaro Alla memoria di Norma Cossetto Studentessa universale istriana Torturata, violentata e gettata in una foiba Dai partigiani del maresciallo Tito Nell'ottobre del 1943 Un impegno che negli ultimi mesi Si è tradotto in una raccolta firme Per ottenere un sentito omaggio alla memoria Pensiamo che Pesaro debba rendere onore A questa martire che per rimanere italiana E' stata praticamente trucidata nel peggior modo possibile E questo lo dobbiamo anche a tutti gli istriano d'Almati Che sono venuti nella nostra città E sono stati accolti da padre Damiani E ancora vivono sia quelli ancora vivi di allora Sia i loro nipoti, i loro figli Ancora vivono nella nostra città E si sono adoperati per rendere la nostra città migliore Ora Fratelli d'Italia porta i risultati della raccolta firme All'attenzione di sindaco e giunta comunale Tra le varie motivazioni per le quali veniva bocciata la mozione C'erano dei motivi tecnici In particolare la richiesta doveva passare tramite sindaco e giunta E non più in consiglio comunale Anche se poi abbiamo visto che in altri casi sono stati percorsi diversi E sono state fatte cose diverse Ricordo Craxi, Giardini Arles, eccetera eccetera E di conseguenza quando la mozione è stata bocciata Io ho detto che avrei raccolto delle firme E comunque sono già oltre 100 Questo a comprovare che a Pesaro la cosa è sentita Che Pesaro vuole un'intitolazione di un luogo pubblico significativo A questa povera ragazza di 23 anni Che è stata strappata alla vita in modo barbaro Le telecamere di Rossini TV questa mattina erano presenti Al liceo artistico Mengaroni Dove è stato presentato il bando di concorso Per le borse di studio promosse dalla fondazione Meuccia Severi Vediamo Nuove opportunità per incentivare la creatività di studenti e studentesse pesaresi Sul tema della moda e del fashion design La fondazione Meuccia Severi è stata infatti ospitata oggi dal liceo artistico Mengaroni Per presentare un bando di concorso Che in linea alle finalità filantropiche della fondazione Consentirà ai giovani più meritevoli Di ottenere alcune borse di studio Da conseguire attraverso progetti originali e innovativi Da sviluppare in sinergia e con il supporto Dell'azienda pesarese Stile Ricamo di Francesco Chialini Che sarà il terzo partner dell'iniziativa Una preziosa opportunità che veramente ci rende orgogliosi Ma anche un'occasione straordinaria Per le studentesse e gli studenti Delle classi quarta e quinta D Dell'indirizzo di fashion design Perché questo è l'indirizzo che per quest'anno ho scelto Per promuovere questo bando e questo concorso Sarà un evento speciale In convenzione con l'azienda Stile Ricamo Di Francesco Chialini Cosa faremo? Faremo dei progetti Realizzeremo dei progetti su dei temi condivisi con l'azienda I progetti più belli riceveranno Questo riconoscimento in premi Un premio che cosa consisterà? Consisterà chiaramente in un supporto in denaro Per poter consentire loro O di effettuare per esempio Un ulteriore stagio in contesto aziendale O di potersi iscrivere per esempio all'università Seguendo il settore del fashion design Oppure anche di programmare un inserimento del lavoro Con anche dei potenziamenti Su conoscenze tecniche particolari Per ciò che riguarda il settore del fashion design Coinvolgeremo circa 40 studenti Quindi di classi quarta e quinta Insieme all'azienda che loro incontreranno Definiranno un tema sulla base del quale Andranno poi a definire il loro progetto Che progetti verranno premiati? Verranno premiati quelli che si caratterizzeranno Per maggiore innovatività Creatività Ma anche possibilità da parte dell'azienda Di vedere questo progetto realizzato Ecco sarà un modo per le studentesse e gli studenti Di mettersi in gioco Rispetto a delle richieste Che possono provenire dall'azienda Quindi una bella preparazione Un bel trampolino di lancio Anche per il futuro inserimento lavorativo Queste competenze che sono Una ricchezza infinita Un capitale umano bellissimo Vanno valorizzate E questo penso sia veramente Un'occasione speciale Quindi ringrazio veramente La fondazione Meuccia Severi Per questa preziosa opportunità Perché consente ai ragazzi Di mettere in campo In gioco Le loro esperienze Le loro conoscenze Le loro potenzialità In un progetto Che ha un valore elevatissimo E tra l'altro È un aiuto veramente Per tutti i ragazzi Che no vinceranno Anche per un progetto di vita futuro Applausi del Mengaroni Contraccambiati a distanza Dall'azienda Stile Ricamo Che non ha potuto partecipare Alla presentazione Di una prima edizione Che la fondazione Meuccia Severi Confida di venti Un appuntamento fisso Per gli anni a venire Mi pregio di essere Il presidente di questa fondazione Che è operativa Da circa un paio di anni Prevalentemente sul territorio Diciamo locale Quindi della provincia Di Pesaro Urbino E che nasce Dalla volontà Della fondatrice Appunto Meuccia Severi Con vari scopi Lo scopo principale È quello Della conservazione E di rendere fruibile Alla comunità Quella che è la villa Appunto di Meuccia Dove risiedono Tante opere d'arte E quindi E che potrà essere anche Teatro di iniziative Culturali e artistiche Parallelamente a questo Essendo La fondatrice È stata per Almeno 40 anni Protagonista Nel mondo della moda E della maglieria La volontà Era anche quella Di dare un supporto In questo settore E in particolare Alle persone più giovani Agli studenti Con delle iniziative All'interno della quale Appunto Si inserisce Il patrocinio Di questa L'istituzione Di questa borsa di studio I sindaci di Fano E Monbaroccio Massimo Seri Ed Emanuele Petrucci Hanno presentato Oggi il progetto Di fattibilità Per la pista Ciclabile All'insegna Della sostenibilità Ambientale Che unisca Proprio i comuni Di Fano E Monbaroccio Sono sei Gli stralci del progetto Presentati Dal costo complessivo Di 3,5 milioni di euro Per i quali Si cercheranno Finanziamenti regionali Ministeriali Ed europei La fotografia Torna protagonista Al centro Arti Visive Pescheria di Pesaro Con un progetto Espositivo Di grande rilievo Dedicato a Stefano Graziani Ospitato nel loggiato E nella chiesa Del suffragio Dal 17 dicembre Al 13 marzo 2022 La mostra fotografica Costituisce Il terzo capitolo Di un ciclo Di dialoghi Per immagini A cura Di Alessandro Dandini De Silva Sarà il celebre Violinista Vadim Brodsky A chiudere La prima parte Della 62esima Stagione concertistica Pesarese Lunedì 20 dicembre Alle ore 21 Sul palco Del teatro Sperimentale Di Pesaro Si svolgerà Infatti L'ultimo appuntamento Dell'anno Per la rassegna Dell'ente concerti In programma L'esibizione Del duo Composto dal celebre Violinista Vadim Brodsky Accompagnato Dal pianoforte Da Bartolomei Wezner Al salone Di Pesaro Di G Motors Yamaha In via Sandro Pertini Sono stati Svelati Giovedì 16 dicembre I tre nuovi Modelli Di Yamaha 2022 Una presentazione Di tre Design Differenti Che è avvenuta Per la prima volta Nella provincia Di Pesaro Urbino Proprio nella giornata Di ieri Nella nuova sede Della concessionaria Motociclistica Sono stati rivelati Infatti Di fronte alla presenza E alla curiosità Di numerosi appassionati Delle due ruote I nuovi modelli Del T-Max 2022 La nuova MT-10 E il nuovo prototipo Dell'XSR700 A dar vita Ad una vera e propria Spettacolarizzazione Dell'evento Ci ha pensato Il corpo di danza Del center stage Pesaro Che ha animato L'attesa Della presentazione Con numerosi Balli E coreografie Compie 25 anni Il coro Filarmonico Rossini E celebra L'anniversario Con una serie Di concerti Che cominciano Domani 18 dicembre Un traguardo Importante Del quale abbiamo parlato Col fondatore Direttore del coro Roberto Renili Abbiamo 4-5 appuntamenti Per questa occasione Per noi Molto importante Ma importante Anche per la città Di Pesaro Il prossimo Sarà proprio Sabato Sabato prossimo Sabato 18 Al Santuario Della Madonna Le Grazie In cui Ci sarà La presentazione Del concerto Con la messa Di incoronazione Di Mozart Per Solisti Coreo Orchestra E poi Successivamente Il 28 Di dicembre Un altro Bel programma Che è Un programma Di musica Argentine Misea Criose Navidad Nuestra Dell'autore Argentino Ramirez Con il coro Con i solisti E con Un gruppo Focloristico Argentino Ci sono state Tante collaborazioni Con personaggi Illustri Di questi 25 anni Alcuni Sono anche Premi Oscar Oscar Come Bakalov Che è Autore Del Postino Della colonna Sonora del Postino Con cui abbiamo Collaborato Che ha diretto Il coro A Milano E L'ultima Collaborazione Di cui Veramente Andiamo Proprio Fieri È quella Con il maestro Rezio Bosso Con il quale Abbiamo Collaborato Ma Ci sono stati Dei progetti E Uno degli ultimi È stata La trasmissione Che è andata in onda Su Rai 3 Proprio Il giorno di Natale Due anni fa C'erano davvero Dei programmi Dei progetti Di cui lui ci parlava Che poi La pandemia E purtroppo La sua scomparsa Hanno chiuso Completamente E questo ci dispiace Perché era davvero Un grande personaggio Questo è stato Un grande onore Per noi Un grande orgoglio Però contemporaneamente Un grande dispiacere Per averlo perso Noi abbiamo Intanto Così Un episodio Ha aperto tanti spazi Che Che prima Non avevano Non erano luoghi In cui si Presentavano Dei concerti Per esempio Villa Caprile Dove era Iniziato Il ROF Con L'arena Di Villa Caprile Tanti cortili Nella nostra città Hanno visto La presenza Del coro Per i concerti Poi La partecipazione A Molte manifestazioni Pesaresi E soprattutto Due importanti stagioni Che noi Abbiamo organizzato Negli anni L'estate musicale Pesarese E i concerti Del filarmonico E questa edizione Che è la venticinquesima L'abbiamo ripristinata Appunto Dopo i due anni Di pandemia In occasione Di questo Venticinquesimo Di fondazione E allora Davvero Buon compleanno Al coro Filarmonico Rossini Siamo arrivati Alla fine Del nostro Telegiornale Ma subito Per voi La programmazione Di questa sera Sul canale 633 E allora Partiamo Perché adesso Subito dopo Questa prima edizione Trovate Il Valefoglia Magazine L'appuntamento Settimanale Con Valefoglia Pian del Bruscolo Alle ore 20 Appunto Su Rossini TV E poi Alle 21.20 In prima serata Vi mostriamo Il video Dell'orientamento Dell'istituto scolastico Di Villa San Martino I progetti Le novità Le iniziative Che ogni anno Mette in campo Questo importante Istituto Del nostro territorio E poi Uno speciale Che abbiamo realizzato A Misano Bellissimo Ve lo consigliamo Soprattutto se amate I motori Alle 21.35 Guardateci Perché parleremo Di un corso Di guida sicura Con macchine Elettriche Anche la nostra Francesca Tricca Ha approvato Personalmente Macchine Elettriche Tesla Organizzato Da Maio Per la ditta Drywell Con partnership Di Geocom Italia E poi Andiamo a domani Domani Con solito appuntamento Con la nostra Rassegna stampa Alle 7.20 Domani con voi Ci sarà Antonio Astuti E sempre domani L'appuntamento Con WePesaro TV Il nostro approfondimento Anzi L'approfondimento Del comune di Pesaro Che troverete Alle 13.30 E l'ospite Sarà Aidi Morotti Che assessore Alla sostenibilità Ho detto davvero tutto Io vi auguro Davvero Buon weekend State collegati Sui canali Di Rossini TV Ci sono tante Tantissime cose Da vedere E da guardare Anche nel fine settimana Mettete like Alla nostra pagina Facebook Oppure seguiteci Sulla nostra pagina Instagram Per essere aggiornati Sulla nostra programmazione Vi auguro allora Buona serata E buon weekend E buon weekend